No, aspetta un secondo, hai mangiato quattro panini nel weekend? No, sabato, intervallati da un'enorme tazza di cioccolato con dolcetti vari. E non è finita. Domenica ne ho prese altre sei, con mezza torta al formaggio. Sì, ma venerdì erano già cinque ore che stavo in ospedale a lavorare. E così ho ordinato un sandwich farcito con calamari fritti e tocchetti di melanzane. Che lì sei un dottore, dovresti saperle certe cose. Ti prometto che alla prossima occasione andrà meglio.